Ciao a tutti, domenica 29 ottobre alle 4.15 la Ternana affronterà il Modena al Braglia con l'obiettivo di riscattarsi, con l'obiettivo di tornare a fare punti per muovere la classifica con l'obiettivo di porre rimedi a questa brutta situazione che è quella della classifica però per farlo dovrà affrontare il Modena e non è certo un cliente facile iniziamo col dire che oggi c'è stata la conferenza stampa di Cristiano Lucarelli che ha presentato il match di domenica e ci ha dato già una notizia che l'unica certezza sarà il 3-5-2 per cui la Ternana giocherà con il modulo con il quale ha giocato tutte le precedenti partite proprio perché è soddisfatto delle prestazioni ottenute per quanto riguarda la conferenza stampa si è soffermato sugli ex su Antonio Palumbo dicendo che è stato venduto per una cifra bassa quella di 300.000 euro perché vale molto di più l'ha definito un giocatore da serie A se riesce ad essere costante per cui sarà anche questa un po' la partita degli ex perché c'è Palumbo e c'è poi Tremolata che è stato con noi diversi anni fa ma soprattutto c'è Palumbo che è stato con noi la scorsa stagione però detto questo la Ternana dovrà fare punti assolutamente all'obbligo di fare punti per riscattarsi ma detto questo non sarà facile perché di fronte a noi c'è un cliente scomodo c'è un Modena che è una buonissima squadra con giocatori molto forti per cui servirà ancora una volta la miglior Ternana della stagione servirà una Ternana cinica e concreta perché è quello che è mancata la Ternana in tutte queste partite salvo la Reggiana esclusa la Reggiana dove questo c'è stato è stata la cattiveria la cattiveria sottoporta l'approccia la cara la voglia di vincere chiamiamola un po' così c'è mancata la concretezza perché se ti riporta sette volte non puoi fare un gol solo con la Reggiana questo si è visto questa cattiveria però poi è durata una sola partita per cui serve questa e poi serve massima attenzione soprattutto per tutti i 90 minuti perché la partita bisogna gestirla perché dura 90 minuti più recupero in tutte le fasi di gara e in tutti i reparti perché bisogna essere attenti ed essere molto forti a livello difensivo per respingere gli attacchi del Modena ma bisogna comunque essere attenti anche a centrocampo perché per le partite gran parte delle partite si vincono purtroppo per fortuna a centrocampo anche lì bisogna essere attenti in quella fase di gara bisogna cercare di perdere meno palloni possibili bisogna eliminare o ridurre al minimo gli errori individuali e concedere poco o nulla alla formazione di casa per cui staremo a vedere quello che succederà le motivazioni da parte della Ternana mi auguro che ci siano perché comunque il campionato è ancora lungo ma il tempo stringe da parte del Modena sicuramente ci saranno perché stanno ottenendo buoni risultati fino adesso per cui ci aspettiamo una partita vibrante una partita dove ci saranno delle azioni da golle speriamo che la Ternana sia anche un po' affortunata perché la sfortuna è stata dalla parte delle fere fino adesso ma speriamo che ci sia un po' di fortuna speriamo che sia brava a portare a proprio favore tutti gli episodi per cui non ci resta altro che aspettare domenica quando le 4.15 ci sarà il fischio di Modena Ternana non ci sarà un po' di fortuna